Ragazzi miei, prima di cominciare vi dico questo, domenica 16 settembre, segnatevelo sul calendario, sarò al Modena Nerd, a Modena ovviamente. Se siete in zona, passateci perché è veramente una fiera molto figa, anche l'anno scorso sono stati un sacco di personaggi famosi, quindi veniteci. Se siete in zona, se siete in una fiera, mi incontrate, mi riconoscete, fermatevi pure che facciamo pure due chiacchiere. E niente raga, ci vediamo domenica 16 settembre a Modena Nerd. Detto questo, signor e signori, benvenuti a un nuovo video su Emilio e oggi finalmente siamo fino a quanto tempo che non facevo un video del genere, tutto movimentato e agitato eh. Raga è da una vita intera che non faccio un video fatto, montato in questo modo, infatti sono carichissimo. Siamo tornati sul Limbo signori. Allora vi spiego un attimo, velocemente, prima di cominciare, cosa era successo, perché non ho portato Limbo. Allora l'avevo portato in live, ok perfetto, un primo pezzo bellissimo. Avevo provato a riportarlo in live, il fatto è che ho avuto un problema con la cattura a schermo e quindi non sono riuscito a farla diretta. Più ci provavo e più non andavo, però dovevo scasinarci, raga non ci sono saltato fuori. Quindi ho deciso di fare il gameplay, però da buon sfigato mi si sono cancellati i dati, quindi ho dovuto rigiocarlo nelle vacanze fino ad arrivare al punto che l'avevo lasciato. Per questo motivo che ci ho messo tanto. Comunque, finalmente, eccoci qua. Riprendi. Io non mi ricordo un cazzo dove eravamo arrivati. Bene, perfetto, tutto contento. E niente, sto pezzando sto... Questa è questa cattiva ria agonistica? Allora, qui in cima ci doveva essere, se non ricordo male... Un cazzo di nulla, perché non mi ricordo dove ci va. Ci sta la macchinetta! Partiva. Guarda, zio! No, eh? No, eh? No, eh? Grande! 10 più 10 al miglio, eh? Che poi così nero, cazzo, inquietante, eh? Proprio inquietante così nero. Grandissimo! Grandissimo! Curcula! Non so se si faceva così, eh, raga, perché... Non me lo ricordo. Faccio. Sennò come cazzo fa? Va bene, né? Ostia! Mi scossarono un po'. Ok, molto buono. Ah! Ah, ma devi incastrarlo. Va che storia! Cazzo, sta cosa non me la ricordavo, raga! Eh, ruota il mondo! Ah, faccio tu, cazzo, come ruota! Ok, bravo, bravissimo! Ok. Già, questo... Qua voglio... Ah, capito! Ok, e poi di qua posso andare. Eh, però... E mi attiva... Vaffanculo. Forse questa è la via di mezzo giusta, raga. Provo, eh. Sì, 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 corri, corri. Grande! 10 più 10 al miglio sempre, eh! Si vede che ci avevo già giocato, raga. Però no, sinceramente alcune cose non me la ricordo proprio. Ah! No, ho sbagliato, va bene. Ah, che male! Come è morto! Ok. Ad aspettare che tutto rotoli... Che ansia sto gioco, che ansia, madonna! Vabbè, ciao. Urca! Ok. Che no! Aia! E l'ha anche schiacciato! Ok. Vai! Che botta, Dano! Mi sta spaccando i timpani con questa canzoncina di merda, eh! Volevi cadere? No! No! Perché mi tocca tornare indietro? Comprendo sempre sti cosi in testa. Ok. C'era la principessa, c'era. Perché se prima c'era la principessa? Che male! Ok. Ok. Molto buono. La vita, raga, per fare sto pezzo! La vita! Ok. Fai su! Fai su! Fai su! Sì! Così mi piaci! Bello de zio! Devo sistemare il carrello perché è già la ventesima volta che cado e muoio. Madonna! Qui devo prendere questo carrello qua. Fai su! Spingerlo verso qua. Ok. Ok. Va bene. Va bene! Ci voleva tanto. Mortacci del carrello. Va bene ragazzi concludendo questo video spero che vi sia piaciuto. Scusatemi se ci ho messo così tanto a portarvelo però come vi avevo detto ho dovuto rigiocarmelo fino ad arrivare a quel punto lì. Quindi come lo sanno vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale, faccia un Facebook di Instagram e tutti i vari interessanti in descrizione dei signori. Ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!